Amici e amici, ben ritrovati e ben ritrovati, buon inizio di settimana, se avete piacere iscrivete il mio canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like. Tema Massimiliano Allegri, ne non potrebbe essere altrimenti, considerando come la Juventus ieri abbia pareggiato 0-0 con il Genoa e il ruolino di marcia sia piuttosto impietoso, una vittoria nelle ultime otto gare, superfluo aggiungere altro, media punti, punti fatti complessivi, gol fatti, gol subì, una vittoria su otto. Ora, chi segue questo canale e magari chi mi segue un po' su Juventibus sa perfettamente come ormai da un mese e mezzo, quasi due, io sto sostenendo una tesi, ovvero che per me la Juventus al termine della stagione cambierà allenatore. Secondo me è una decisione che la Juventus ormai ha maturato la settimana al di là dell'ovvio politichese ed è una scelta questa, se dovesse andare in porto, che mi trova, concorda al 101%, perché credo che sia fisiologico che la Juventus, dopo queste tre stagioni di Allegri, abbia bisogno, anche a livello di proposta, di qualcosa di differente. In tanti mi avete citato la scuola settimana perché mercoledì, come sempre, ero su Juventibus quando ho fatto notare al mio amico Luca Momblano che questo non è l'anno zero, questo è l'anno tre del 2.0 di Max Allegri dell'anno zero perché li siano giunto. Ora, metterci qua a sparare su Allegri mi sembra che sia un gioco molto molto semplice, ho visto la risposta che ha dato ieri a Teotino Suscai, secondo me avrebbe avuto maggiore senso optare per l'eleganza, dire che i giornalisti non possono diventare allenatori, viceversa, un po' buttarle in vacca e si capisce quanto fosse nervoso Allegri dopo l'ennesimo passo falso di questa seconda parte di stagione. Però, come già vi ho detto, non sarei personalmente per l'esonero nell'immediato, perché credo che mettere Brambilla o Montero in questa seconda parte finale, in questo rush finale, è vero c'è la Coppa Italia, quello che volete, ma significherebbe probabilmente anche mettere i calciatori nelle condizioni ideali di potervi vacchiare. Siccome io penso che Allegri sia giunto fisiologicamente alla fine di questo secondo ciclo alla Juventus, ritengo anche che sia corretto che lo termini, che finisca questa stagione e che poi la Juventus abbia una nuova guida tecnica. Io la settimana sostengo che la Juve abbia bisogno di un tecnico didattico, un allenatore che sappia dare un certo tipo di identità, anche magari un calcio un po' più offensivo e che poi cerchi di arrivare al risultato attraverso trame ben organizzate e non meramente affidandosi alla difesa posizionale o comunque a ragionare principalmente sul non prenderle. Però vi dico anche che, dato oggettivo che Allegri nelle ultime otto ci abbia capito ben poco, perché secondo me l'aspetto più negativo non è tanto il gioco non gioco. Criticavamo Allegri anche quando vinceva nel suo primo ciclo, 11 trofei in 5 anni, figuriamoci se oggi dobbiamo metterci qua a parlare della sua proposta calcistica. Il problema vero, secondo me, è che Allegri non è riuscito minimamente a lavorare sulla testa dei calciatori in queste otto gare. Questo è il problema più grosso, perché poi, se ci fossero state risposte differenti, sì, c'è stata la partita di Napoli che tra queste otto è stata la più incoraggiante, anche con l'Atalanta credo che la Juventus avrebbe meritato di vincere, ma se tu fai bene a Napoli e fai bene con l'Atalanta e porti a casa solamente un punto in queste due gare, allora significa che è davvero buio fitto, che non c'è luce in fondo al tunnel, anche perché in queste otto partite la Juventus ha affrontato squadre di calibro dell'Empoli, il Verona, l'Udinese è venuta a vincere qua, lo stesso Genoa che è tranquillissimo, insomma non è che abbiamo affrontato Manchester City, Real Madrid o Bayern Monaco. Quindi è normale essere preoccupati, qualcuno lo è seriamente per il posto Champions, ricordiamo che oggi come oggi anche la quinta andrebbe nell'Europa che conta, io da questo punto di vista continuo ad avere fiducia, neanche moderatamente fiducia, perché poi le altre si devono scontrare, la Juve ancora ha dei punti di vantaggio, però trovo che sia, questo è un discorso che lascia il tempo che trova, perché siamo passati dal sogno scudetto mai per i sottoscritti, e sfido chiunque a dirmi che Romeo Agresti abbia pensato seriamente allo scudetto, tant'è che venivo preso in giro dopo la prima partita di Udine in campionato, sempre su Juventus, dicevo se qualcuno ritiene che la rosa della Juventus sia superiore a quella di Inter, Milan e Napoli, evidentemente questo discorso l'ho fatto dopo aver bevuto tre bianchetti al bar. E io continuo a pensarla questa cosa, secondo me Inter, Milan e Napoli in termini di rosa sono superiori, che poi l'Inter lo ha dimostrato, il Napoli è imploso, il Milan, comunque sfruttando la crisi della Juventus, secondo me avrà, non dico gioco facile, ma messa in migliore posizione per arrivare seconda, quindi io non ho mai creduto allo scudetto, ma non nemmeno ho mai pensato che si potesse crollare in questa maniera. Poi c'è il problema grosso legato alla costruzione, cosa sta costruendo la Juventus in vista la prossima stagione? Poco niente, perché abbiamo tanti interrogativi, tanti dubbi su tanti calciatori, i macro temi, Federico Chiesa, Manuel Locatelli, e quando tutti finiscono il mirino, alla fine solitamente come va a finire? Che è molto più semplice cambiare un allenatore rispetto a 22 interpreti. Occhio a un'altra cosa, che la prossima stagione, vedremo se la Juventus è in grado o meno di andare in Supercoppa, rischia di proporre 5 competizioni, con una media, ve l'ho già detto, più riprese, da 60 gari in poi. Ecco, allegri o non allegri? Bisogna essere strutturati. Ad oggi la Juventus non lo è nella maniera più assoluta. Quindi è scontato che secondo me il finale ormai metta Allegri sempre più sulla gogna mediatica, è sempre più una posizione di debolezza, con una scelta differente al termine dell'annata, che poi andrebbe secondo me a consolidare semplicemente il regno giuntoliano, concedendogli la possibilità di effettuare la prima grande scelta in qualità di football director da Juventus. Quindi sarebbe, anche da questo punto di vista fisiologico, cioè a colui che è fidato un progetto quinquennale, devi fargli scegliere l'allenatore, perché Max Allegri giunto lì se l'è ritrovato, poi con grande professionalità entrambi hanno ragionato in base al bene della Juve, ma non si può dire che è giunto lì e sia un uomo di Allegri e neanche meno viceversa. Ovvio, ovvio, che ora bisogna essere lucidi il giusto, per non mandare totalmente in bacca questa stagione. Siccome la Juventus nella sua totalità sta riuscendo a gettare all'aria quanto di ottimo costruito, in termini di punti, non parlo di performance, di punti, per coloro che non capiscono, il giorno è andata. Cioè, raga, qua anche un po' di amor proprio. Ora vogliamo stare qua a sparare su Max Allegri, H24, sette giorni su sette, fino a rientro dalla sosta? Possiamo farlo, tranquillamente. A me porterebbe un casino di like, un casino di views, ma non credo che sia questo il punto. Cioè, una volta detto che Allegri oggettivamente, oggettivamente, probabilmente non sia più l'uomo adatto per sviluppare questo progetto del futuro, e che quindi la scelta, lo ribadisco bis, come sostengono a due mesi, non da ieri, da due mesi, debba propendere per un nuovo allenatore. Oggi, però, dobbiamo mettere anche un po' i calciatori, eh, davanti alle proprie responsabilità. Perché, se l'allenatore ci capisce poco, in questa fase, io mi aspetto che qualche giocatore possa fare un pochettino di più. Per l'amor proprio! Non dico per l'amore ai tifosi, di quelle sono tutte cavolate, sono tutti slogan aria fritta, non voglio parlare di senso di appartenenza, la maglia, tutte queste cose qua. Per l'amor proprio, per il proprio lavoro, per i sacrifici che hanno fatto in generale andata, per quelli che fanno quotidianamente la continassa, per i loro nomi. Ecco, quindi, spariamo pure su Allegri. Quasi oggettivo che si debba far così, metaforicamente parlando, e ovviamente analizzando lucidamente cosa succede. ma attenzione, che poi qui, c'è tanto da fare per tornare ad essere Juventus vera, eh. Occhio, occhio.